La cosa che lascia perplessi è che in 14 anni le discariche non si sono volute, quelle che c'erano sono state chiuse e poi vediamo come reagisce la popolazione lì della discarica di pianura. Gli inceneritori non se ne parla neanche, i termovalorizzatori non sono stati costruiti mentre in tutto il resto d'Italia la questione rifiuti è stata risolta anche brillantemente chissà come mai soltanto in campagna a Napoli il problema non è stato neanche affrontato. Io ho sentito tutti gli interventi, ciascuno ha le proprie scuse, i propri torti, però non esce l'assassino non si sa chi ha permesso che in campagna e a Napoli non si provvedesse a distruggere i rifiuti nel modo adottato in tutte le altre città italiane.